Era fuggito nel suo paese d'origine ma ieri è tornato. Per lui sono scattate le manette per lesioni gravi e tentato omicidio. L'uomo, 42 anni cingalese di professione domestico, aveva coltellato un connazionale durante una festa in un'abitazione presa in affitto a Preganziol. La lite, scaturita per futili motivi, è avvenuta il 3 luglio. La vittima, un 37enne, è stato colpito più volte al torace con un coltello da cucina reperito sul posto. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. L'aggressore invece si era reso irreperibile, fuggendo nel suo paese. Ieri è tornato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Venezia ed è stato subito arrestato dai carabinieri in collaborazione con il personale della Polaria e tradotto in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La vittima, dopo un primo ricovero d'urgenza in prognosi riservata, era stata operata per tamponare la ferita che avrebbe potuto avere esiti mortali. Adesso si trova fuori pericolo. Grazie. Grazie. Grazie.